Questo in realtà è un topic che di tanto in tanto salta fuori, ce lo stiamo portando dietro più o meno dall'indomani del floppone di Solo al cinema. Facciamo un pratico riassuntino. Solo arriva nel maggio, ormai maggio 2018, se non vado errato, sono già passati due anni, a stretto giro di vite dopo Gli ultimi Jedi e floppa clamorosamente. È il primo film di Star Wars in live action ad aver deluso al botteghino, ma deluso in maniera clamorosa. Ora, sarebbe troppo lungo cercare di risalire alle ragioni perché sono veramente tantissime, però in tanti videro l'errore nel rilascio a così breve distanza da un altro Star Wars. Ma in quel periodo la Disney, lo sapete, ve lo ricorderete, stava cercando di far diventare Star Wars un secondo Marvel Cinematic Universe con tantissimi progetti, tantissimi film che poi sono diventati serie TV, come ad esempio il film su Obi-Wan che è diventato la serie su Obi-Wan. Forse proprio a causa di questo, tanti fan di Solo, che comunque una pellicola che mese dopo mese ha acquisito una certa notorietà a posteriori, c'è chi l'ha scoperto in home video, c'è chi l'ha scoperto in streaming su Disney+, tanti dei sostenitori della pellicola speculano e caldeggiano la realizzazione di una serie sequel. Perché, se avete visto Solo, vi ricorderete che il finale lasciava presumere un prosieguo, non era proprio un film stand-alone. Pareva avessero puntato tutto addirittura su una trilogia. C'era l'ingresso di Darth Maul, che non si rivedeva dai tempi della minaccia fantasma. C'era il personaggio di Emilia Clarke, abbastanza grigio, alleata di Maul, non si capiva bene cosa volesse fare. Un prequel su Han Solo, senza aver visto ancora Jabban e Boba Fett. L'intento era proprio quello di andare avanti. In tanti vorrebbero, appunto, una serie che riprendesse le fila del discorso. Ron Howard, ed è l'ultimo di una lunga serie di personaggi che hanno rilasciato dichiarazioni in merito, Ron Howard ci dice che al momento non ci sono sviluppi nel merito della realizzazione di questa papabile serie. Ron Howard ci dice che non ci sono sviluppi, anche se credo ci sia un certo interesse verso questi personaggi, ma vi posso assicurare che ora come ora non c'è niente in fase di sviluppo su Disney+. Eppure la cosa davvero interessante è che Solo è finito per ricevere un sacco di affetto fattore. E' questo che fa ben sperare circa un ipotetico cambio di rotta. Ne sappiamo più o meno quanto prima. Certo è che, attualmente, basandomi sul sentore comune, The Mandalorian, che è una serie che sembra aver riacceso gli entusiasmi dei fan di Star Wars scottati dopo Episodio IX. E' vero è anche che, vista la situazione in cui versa al cinema, e ne parleremo dopo nel main event, lo streaming sembra sempre di più neppure il futuro, il presente. Quindi un progetto come Un Solo Due, oppure una serie tratta da solo, potrebbe incuriosire una certa fetta di spettatori e di appassionati. Quindi, tutti ci dicono, è improbabile, no, non ne stanno parlando, e ovviamente non li smentiamo. Ma dopo questa impresa compiuta da Snyder con la Snyder Cut, ormai non mi sento mai tranquillo. Quindi, non mi sento sicuro nel dirvi, non lo faranno, rassegnatevi. Perché questa Disney che deve fare i conti con la pandemia, questa Disney che si trova al successo in casa con The Mandalorian, potrebbe pensarci, anche perché Alden Haranreich, se non sbaglio, non è che sia esploso come attore. Anzi, attualmente il protagonista di un'altra serie, forse oggi hanno rilasciato il trailer, si intitola Brave New World, serie fantascientifica. Quindi, non credo abbia un cash altissimo. Forse l'attore che costicchiava un po' di più era Donald Glover, ma sappiamo che Disney, quando vuole, i soldi li caccia anche. Quindi, magari una miniserie di sei puntate. Non lo so, non so perché, ma non è un progetto che tendo ad escludere a priori. Anche se al momento ci dicono tutti, no, non si fa, non si fa, anche perché, ricordiamoci sempre, che Solo è stato veramente un flop e forse in casa Lucas film non ne vogliono neppur sentir parlare. Visto che è un fantasma, è il fantasma del fallimento. Per quanti nuovi film non siano piaciuti, comunque hanno incassato tantissimi soldi. Solo, proprio, no. E credo che anche a livello di merchandise sia stato un po' un disastro. Travatar, secondo te è possibile la realizzazione di una serie sequel di Solo su Disney Plus? Bah, io la vedo improbabile. Tu dici Mandalorian, ok? Ma in teoria di Mandalorian sembra aver dimostrato, essendo il prodotto più amato di quelli recenti, sia Maraguan, che è meglio puntare su personaggi nuovi. Eh, purtroppo ti devo vagamente contraddire, forse questa è una polemica tra me e il sottoscritto, però a me invece The Mandalorian sembra il trionfo della nostalgia e un po' dell'usato sicuro. Di nuovo, in effetti, c'è pochino. Poi non voglio fare spoiler, soprattutto perché tu non l'hai ancora vista la serie, però ci sono location, personaggi che richiamano un po' il glorioso passato. Tant'è vero che una delle critiche che ho rivolto a questo inizio di seconda stagione è ok, tutto bello, ma roba nuova, no? Eh, ok, però io mi ricordo ad esempio che, cioè nel senso Rogue One, che è l'altro prodotto più amato, almeno live action, della gestione disneyana, è sì molto diverente al passato, c'è la morte nera, ma comunque con personaggi nuovi. Mentre qui invece è proprio un prodotto con personaggi già visti, seppur più giovani. Quindi è per quello che secondo me è in più improbabile, cioè ok, probabilmente ci sarebbe la serie su Obi-Wan, che però anche lì la fanno o non la fanno, la stanno rinviando 3000 volte. Allora a sto punto, perché andare a ripescare un progetto che ha floppato, è stato un incubo lavorarci, eccetera, eccetera, solo per quella che comunque di fatto è un po' una minoranza, perché adesso, ok, che sta venendo riscoperto. Ma non credo che tutti i fan di Star Wars smanino per vedere un solo due, quindi io sinceramente... Ok, poi tu dici la Snyder, la Snyder, però concediamolo. Snyder o chi per lui sono stati bravi a costruire il tutto basandosi anche sull'ingiustizia dietro appunto a quello che era successo, alla tragedia di Snyder. Qui invece che cosa usi nel senso è semplicemente... Allora a sto punto tanto vale chiedere la Lorde Miller Cut, che lo diceva già qualcuno. Esatto, diciamo che il corrispettivo sarebbero Lorde Miller incazzati neri che cominciano a dire rilasciate la nostra cut, fatelo, fatelo. Esatto, cioè allora più senso così, perché lì comunque c'è stato effettivamente qualcosa. Qui non fare la serie, ma anche lì per proseguire, ma è davvero così necessario? Cioè questo è un problema che Star Wars ha sempre avuto anche da prima della Disney, che da un lato è una saga in cui c'è sempre chi vuole spiegare tutto. Cioè nella wiki di Star Wars c'è la storia dei jazzisti della cantina di Mos Eisley, che sono personaggi meravigliosi, ma sono belli perché sono lì sullo sfondo a suonare. A me di sapere come questi sono laureati al Conservatorio Galattico. Eh, cazzo. Io la vedo da un punto di vista più economico la cosa, secondo me, nella Disney. Cioè, scusa, ti ho interrotto però, perdonami. No, no, guarda, quindi appunto, cioè dicevo da un lato appunto tutti vogliono sapere, però poi quando ti spiegano qualcosa, e ma ce n'era bisogno, e ma così si è tolta la magia, e quindi insomma c'è questa sorta di continua indecisione. E quindi da un lato c'è chi vuole che finisca, però da un lato se dovesse finire ci sarebbero quelli che dicevano però era più bello che noi, riempissimo il buco, noi fan. Quindi come fan non sbagliano, quindi a sto punto, piuttosto che buttare soldi in una cosa che poi li critichi e che deriva da una cosa che non ha avuto successo, e dico, provate altro e via. Sai qual è il problema? Secondo me l'apparizione di Darth Maul ha colpito nel segno. Ha colpito nel segno i fan più acerrimi, attenzione, perché io sono sicuro che invece quell'elemento abbia disorientato gli spettatori meno appassionati. Però c'è chi vedendolo ha sentito un certo ardore nelle mutande, quindi si domanda come sarebbe andato avanti, cosa ci avrebbero raccontato. Poi, prima parlavo in senso generale, se devo pensare alla mia campana, non sento la necessità di un solo due, assolutamente. oltretutto Star Wars può contare su un corpus di fumetti, romanzi, quindi eventualmente potrebbero raccontare lì la prosecuzione della storia senza il minimo problema, senza problemi di budget, di flop, di fallimenti. Poi anche lo stesso Ron Howard dice non ne stanno parlando, ormai sono passati due anni, se non ne parlan dopo due anni è difficile che lo facciano dopo tre o dopo quattro. Però è anche vero che questo periodo è molto particolare. Certo. È un periodo molto particolare, fra l'altro, quando dico la vedo più dal punto di vista economico, perché per esempio Disney qualche settimana fa, non so se uno o due settimane fa, ha in un comunicato stampa annunciato che in poco tempo abbandonerà le sale. Diciamo, alcune delle sue produzioni, idealmente quelle proprio Disney, quelle che si aprono col castello, abbandoneranno completamente le sale per rimanere solo in streaming. Quindi su Disney+. Questo è una cosa, diciamo, il problema delle sale cinematografiche, poi parleremo meglio dopo, qua lo accenno semplicemente, è una cosa che da pre-Covid sapevamo che c'era, no? Il problema delle sale, che fine faranno le sale. Diciamo che il Covid, se era un passaggio, aveva bisogno di dieci anni, col Covid adesso fosse l'anno prossimo. Diciamo che, poi ti lascio andare avanti, prima comunque la Disney era disposta, era più disposta alla coesistenza. Esatto. Cioè, teniamo vivo il Disney+, però comunque le sale danno soldini. Purtroppo il Covid ha reso le sale inutilizzabili e quindi siamo nella situazione in cui se tolgono i film da le sale sono stronzi, se li lasciano sono dei coglioni che perdono soldi, quindi come al solito non ne escono. La creazione di serie TV, in questo caso la creazione di un'altra serie su Star Wars, in realtà a livello economico non sarebbe neanche una follia, perché comunque c'hai materiale per Disney+. E sappiamo che quando tu annunci una nuova serie c'hai più abbonati. Netflix ragiona così da diversi anni ed è la prova che funziona. Disney ragiona anche in un altro modo, Disney ragiona tantissimo sia col merchandise che con i parchi a tema, ad esempio. Per esempio una serie come quella con Nicolas Cage, il tesoro dei Templari, il mistero dei Templari, che andò benissimo, se sia nei cinema che non è in un video, andò benissimo. Non fecero un terzo capitolo perché non riuscirono a capire come piazzarlo all'interno dei loro parchi a tema e perché non aveva merchandise che si poteva vendere. Quindi siccome loro, oltre che dal film, guadagnano tantissimo anche da quella roba lì, accantonarono il progetto. Dice sì, ok, è un film che fa un sacco di soldi, però noi solo col film non ci guadagniamo un cazzo, quindi lasciamolo da parte. Star Wars è una saga che da sempre macina soldi. Macina soldi per i film e macina soldi per i Lego, i pupazzi, le cose, adesso le serie di V con Disney+. Quindi non è totalmente da sottovalutare. Secondo me quella di Obi-Wan pure per adesso è da una parte perché stanno capendo dove andare a sbattere la testa. perché già Mulan che è dovuto uscire su Disney+, che comunque i soldi li ha fatti. Non è vero che Mulan, c'è gente che dice ma Mulan è stato un flop, non ha fatto soldi. No, i soldi un po' li ha fatti. Non ne ha fatti tantissimo, Mattia, ovviamente, però ha salvato il salvabile. Diciamo così. Ha più o meno salvato il salvabile. L'idea della serie, secondo me semplicemente Disney al momento è vediamo che cazzo succede perché stanno cambiando parecchio e scusate forse sto già entrando nell'altro discorso ma stanno cambiando parecchio quello che sono gli scenari del mercato cinema e del mercato serie TV anche. Stanno cambiando veramente tanto negli ultimi mesi, non in anni. Quello che sta succedendo in questi 3-4 mesi che sono passati normalmente le produzioni vedono, cioè succede negli anni. Adesso è tutto troppo più veloce perché stanno come pezza al culo tutti e non è fuori di testa, secondo me, lasciando stare tutto il discorso della storia, delle cose, quello che dite voi è giustissimo, ma dal punto di vista economico pensare di tirare fuori un'altra serie che dopo The Mandalorian gli costerebbe sicuramente molto meno rispetto a prima non è completamente fuori di testa. È un personaggio, ci sono diverse possibilità per far entrare vecchi personaggi all'interno della storia di Solo che alla fine i vecchi personaggi vuoi o non vuoi è la cosa che interessa di più anche per questo Rogue One fece tantissimo perché Rogue One era un prequel di tutta la saga di Star Wars. Fece tanto per questo perché tu il prequel te lo vai a vedere. Lo spin-off non lo so e infatti poi vabbè problemi produttivi registi che cambiano deliri, cose lasciamo aperte. Sì prendo spunto da qualche commento ricordiamoci che Narnia 2 ha flopato hanno fatto il 3 ti correggo Narnia 3 non l'ha fatto la Disney l'ha fatto la Fox Disney dopo Narnia 2 l'ha sbolognato il franchise non gliene più fregato nulla tant'è vero che Narnia 3 era palesamente lo budget rispetto ai primi due decisamente e fu un altro adesso non sono andato a controllare gli incassi ma fu un altro in successo tant'è vero che adesso Netflix dovrebbe risollevare il brand tra tutti i 3.000 brand che ha comprato c'è anche le cronache di Narnia gli hanno dato nel pacchetto compra 20.000 merde ed è in mezzo che era pure questo poi ci chiedono se la trilogia di Johnson è ancora in cartello tecnicamente non l'hanno mai cancellata ma non ne hanno più parlato dai tempi di episodio è in panciole a far preparare Nice Out 2 ed è lì bello tranquillo ma anche lì lo dice uno dei pochi a cui episodio a te è piaciuto perché dovrebbe tornare a fare una saga per cui tutti lo mandano a fanculo quando invece ne può fare una in cui comunque guadagna in proporzione e per cui tutti l'hanno amato dato che l'hanno pure candidato all'Oscar alla migliore sceneggiatura cioè se ne resta su Nice Out e gli altri facciamoci a Hino io ve lo dico da anni che la trilogia di Johnson è bella che è andata anche perché il futuro cinematografico della saga è un casino è ancora prevista la trilogia dei furono Benioff e Wise non è più loro ma la trilogia è rimasta poi dovrebbe esserci un film diretto da Waititi un film prodotto da Kevin Feige un film diretto da un altro regista adesso non ricordo il nome ma era un giovane regista afroamericano noto nell'ambiente indipendente la chiarezza non è di casa Lucasfilm e comunque c'è il covid quindi adesso c'è non lo sa nessuno studio sa cosa fare con niente se non sbaglio oggi o domani dove uscirà Black Widow che ovviamente è zompato pure quello non si sa se comincia a parlare di Disney Plus ma ci provano a dire no forse lo mandiamo al cinema perché ovviamente ci guadagno molto di più se lo mandano al cinema io lo continuo a dire la Marvel faranno sarà proprio l'ultima cosa a mandarla su Disney Plus perché loro puntano a livello di pubblico e di target a suddividere film al cinema e serie su Disney Plus nel momento in cui quest'equazione viene meno devono proprio rivedersi tutto